Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso dedicato ad Adobe Audition Corso riservato a voi che siete abbonati a questo canale YouTube Grazie intanto per i vostri 3 euro al mese 3 caffè che mi offrite ogni mese Sono per me importantissimi perché mi permettono di andare avanti con questo progetto Quindi ancora grazie, grazie, grazie per aver scelto di darmi fiducia Allora, nelle scorse lezioni abbiamo visto come funziona l'editor di un file audio con Audition Abbiamo visto rapidamente come fare tagli, come aggiungere effetti E nella prossima lezione torneremo ancora sull'editor audio E vedremo un altro modo per aggiungere effetti ai nostri file audio Però prima di andare avanti su quel tema voglio mostrarvi dove andare per impostare le preferenze di Audition Come tutti i software Adobe e in generale come tutti i software del mondo Anche Audition ha un'area riservata ai settaggi, alle impostazioni, alle preferenze Accedervi è molto semplice, basta andare sulla voce modifica In basso individuate la voce preferenze, dovrebbe essere l'ultima E vi apparirà un sottomenu con tante categorie di settaggi a cui potete accedere Cliccate su uno qualsiasi, iniziamo con generali E si aprirà questa finestra che poi a sinistra ha riepilogate tutte le categorie che avevamo visto poc'anzi E a destra tutte le varie impostazioni che possiamo scegliere Allora non andiamo adesso nel dettaglio su ogni singola impostazione Intanto vi dico che se passate con il mouse sopra ogni voce Trovate spiegato lo scopo del singolo settaggio Quindi ecco, può essere anche un modo abbastanza intuitivo da soli Per andare a vedere a cosa servono tutte queste impostazioni La prima cosa che dobbiamo assicurarci di avere attivati sono i salvataggi automatici Lo ricordo sempre, per evitare disastri andate in salvataggio automatico E assicuratevi che sia spuntata la voce salva automaticamente dati di recupero Io imposterei ogni 5 minuti per stare più tranquilli E anche la voce backup automatico di file di sessioni multitraccia Lasciate i valori così come sono Ma cliccate sulla voce backup Assicuratevi che siano entrambe attive Poi la cosa che voglio mostrarvi quest'oggi Invece è il mapping dei canali audio Intanto noi utilizziamo una scheda audio per registrare Questo è importante ovviamente Senza scheda audio non potremmo nemmeno ascoltare quello che stiamo facendo Se abbiamo più schede audio possiamo scegliere quale scheda audio utilizzare nel menu hardware audio Vedete che per esempio nell'input predefinito Ovvero qual è la sorgente nel caso in cui volessimo registrare un suono Io in questo caso ho scelto quella che è la mia scheda audio Però per esempio potrei scegliere tranquillamente anche di utilizzare il microfono della mia webcam Quindi input possiamo scegliere qual è l'input da cui vogliamo attingere per registrare il suono Stessa cosa per l'audio Se noi abbiamo più schede audio possiamo decidere magari di inviare quello che noi riproduciamo in audition Ad una scheda audio piuttosto che ad un'altra Io per esempio ho una scheda audio integrata nel mio sistema e poi ho una scheda audio esterna E io faccio in forma audition che quello che io vado a riprodurre voglio che venga riprodotto sulla mia scheda audio esterna Questo è molto importante Tralasciamo il tema del clock, tralasciamo la latenza Sono importanti ma non indispensabili per il momento Notate come la frequenza di campionamento in questo caso si è impostata a 96.000 Hz Ora chiaramente accedendo alle impostazioni della scheda audio potremo andare a modificare questo comportamento Però per il momento lasciamo le cose così come stanno Il mapping dei canali audio Mapping dei canali audio è un po' la stessa cosa Noi abbiamo detto che un file audio può essere formato da più canali Un file audio stereo ha due canali, uno sinistro e uno destro Nel caso in cui per esempio la mia scheda audio abbia a disposizione più canali di ingresso Come è nel mio caso Io potrei informare audition che per esempio sul canale di sinistra che di default viene considerato come mono Potrei andare ad utilizzare l'input 1 della mia scheda audio Mentre per esempio sul canale di destra potrei informare audition che voglio andare a inviare l'input numero 2 della mia scheda audio Che cosa vuol dire questo mono che vedete qui a sinistra? Vuol dire che se io vado a creare un file mono come faremo tra pochissimo Automaticamente verrà utilizzato come file come sorgente il canale che abbiamo impostato come canale di sinistra Quindi in questo caso l'input 1 della mia scheda audio Se io invece andrò a creare un file audio stereo chiaramente verranno utilizzati entrambi i canali E sul canale di sinistra verrà utilizzato l'input 1 della mia scheda audio E sul canale di destra verrà utilizzato l'input 2 della mia scheda audio È un po' contorto ma se ci pensate bene è un po' come giocare a battaglia navale Ho due canali e cosa ci voglio mettere in questi due canali? Se io ho una scheda audio che mi permette di avere più input posso per esempio decidere che su un canale va la voce E su un altro canale ci va una chitarra per esempio Schede audio molto più evolute che possono ospitare anche fino a 5, 6, 8 ingressi Mi permettono magari di registrare contemporaneamente un gruppo che suona E quindi potrei per esempio decidere di mappare un file con tanti canali audio Ogni canale audio ha per esempio uno strumento musicale diverso Questo è molto più vero quando poi andremo a lavorare per esempio nell'editor multitraccia Ma non corriamo troppo Questo per quanto riguarda l'input Per quanto riguarda l'output è un po' la stessa cosa Io potrei mappare per esempio l'audition Per fare in modo nel caso in cui io abbia a disposizione un impianto Dolby da 6 casse 5.1 E potrei mappare l'audition per funzionare in questo senso Però non andiamo troppo oltre E' importante sapere che c'è questa impostazione e che è possibile mappare l'audio Poi vi garantisco che quando vi occorrerà queste sono le impostazioni e saprete sicuramente orientarvi Quando avete deciso le impostazioni che fanno al caso vostro cliccate su ok Ok io non clicco perché mi vanno bene già così come sono Cliccate su ok e le impostazioni verranno automaticamente prese in carico da audition Bene mi fermo qui per adesso Nella prossima lezione torneremo a parlare ancora dell'editing audio E di un nuovo modo o meglio di un modo diverso rispetto a quello che abbiamo già visto in passato Per applicare effetti al nostro file audio Al prossimo video tutorial Ciao